Se fosse una montatura, è un dubbio, è una costruzione, le date, un sì però? Ma intanto, giustamente, condivido quello che dicevi, giustamente i giornalisti hanno dubitato finché non l'hanno visto perché le immagini di Buccia sono arrivate prima che i giornalisti potessero arrivare a Buccia e verificare di persona e questo è giustissimo, cioè il mestiere del giornalista è quello di verificare non è che esprimere dubbi vuol dire avere un atteggiamento filo russo, esprimere dubbi fa parte del nostro mestiere e le conferme sono arrivate dopo le verifiche, la vostra e il nostro anche, Mannocchi, ha fatto un lavoro eccezionale perché non si è accontentata di raccontare ma ha anche fotografato, credo col suo cellulare, alcune scene atroci che ovviamente ognuno sceglie di pubblicare quelle che considera pubblicabili perché la testimonianza di un giornalista, le parole servono anche a questo, a evitare che si debba vedere delle scene è un problema che abbiamo avuto in tutte le guerre, ricordiamoci le teste tagliate però vorrei aggiungere una cosa, c'è una polemica sottesa alle posizioni politiche giustificazioniste nei confronti dei rusi intendo le posizioni che vanno da Salvini alla sinistra radicale, all'Ampi in Italia abbiamo un vasto panorama, diciamo che in Italia è successo qualcosa che non è successo in nessun paese europeo ha tolto l'ungheria di Orban, allora c'è una polemica che dice i giornali, i giornalisti, i telegiornali sono filoamericani, ce l'hanno coi russi pregiudizialmente io non credo che sia così perché se ci ricordiamo l'invasione in Iraq per citare l'esempio più recente, ma non è che l'invasione in Iraq i giornali, i giornalisti e i telegiornali ebbero una posizione, come dire, pregiudizialmente favorevole gli americani tutt'altro, quando Colin Powell andò alle Nazioni Unite e raccontò quella frottola dei giacimenti di armi letali, si capiva benissimo che non ci credeva neanche lui e grandissima parte dei giornali dubitarono e fecero bene e aggiungo una cosa, se non ci fossero stati dei media indipendenti Bush e Blair non avrebbero perso le elezioni per quella guerra lì se in paesi come quelli europei ci fosse stato lo stesso tipo di informazione che c'è in Russia che la chiamano operazione militare speciale e non gli fanno vedere i morti di Bush se fosse così Bush e Blair sarebbero ancora a loro parte Bush no perché era il secondo mandato era già il secondo mandato quando perse le elezioni però ebbè sarebbe stato rieletto invece in due grandi paesi il presidente e il primo ministro persero le elezioni grazie al fatto che in prima pagina sui giornali nei servizi dei telegiornali c'erano le foto delle bale avvolte nelle bandiere e queste bale a un certo punto però c'è un fatto volevo chiedere anche a Dino Pesole un passaggio, un commento sul tema grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti